Tuo iPhone ti connette al tuo mondo digitale. Può rimanere in contatto con i tuoi familiari, con i tuoi amici, con tutto il mondo, dovunque tu sia. Porta il tuo mondo digitale nella tua auto. Apple CarPlay è un modo rapido per utilizzare alcune app presenti sul tuo iPhone all'interno della tua auto. Prima di tutto, assicurati che Apple CarPlay sia abilitato sul tuo sistema di infotainment. Fai clic su Impostazioni. Poi vai alla pagina successiva e verifica le impostazioni. Adesso connetti il tuo iPhone al sistema di infotainment attraverso il cavo USB fornito da Apple. Dopo la connessione, l'icona Proiezione sulla schermata Home commuterà in icona Apple CarPlay. Fai clic sull'icona. Connettendoti per la prima volta, controlla i requisiti di sistema del tuo iPhone per continuare. Con Apple CarPlay, alcune delle app presenti nel tuo iPhone possono essere utilizzate attraverso il sistema di infotainment dell'auto per ascoltare musica, telefonare, inviare messaggi, navigare verso una destinazione desiderata e altro. Per utilizzare Siri, premere e tenere premuto il tasto voce sul volante fino a che non viene richiesto un comando vocale. Puoi sempre tornare al sistema di infotainment premendo il tasto Home. Sapevi che si può facilmente tornare ad Apple CarPlay? Basta premere e tenere premuto il tasto Home.